Se non è una guerra è certamente un braccio di ferro quello in atto sul futuro della mobilità pavia dopo l'emergenza coronavirus. La necessità di evitare assembramenti e di mantenere le distanze in pubblico avrà ripercussioni anche sulla pianificazione della mobilità cittadina. A scendere in campo per prima nei giorni scorsi era stata l'associazione il sellino spiritato con una petizione per chiedere al sindaco di puntare sulla cosiddetta mobilità sostenibile ovvero su piste ciclabili e ZTL innanzitutto. In queste ore arriva a ruota è proprio il caso di dirlo la FIAB, la federazione italiana amici della bicicletta con una lettera ad ASCOM, camera di commercio, oltre al sindaco Fracassi e all'assessore alla mobilità Bobbio Pallavicini. Diverse le proposte messe sul tavolo a cominciare dall'utilizzo di mezzi ecologici e dal potenziamento del bike sharing. Due strumenti giudicati strategici anche per il servizio del carico e scarico delle merci fino ad arrivare al mantenimento della ZTL proposta quest'ultima che si pone in antitesi però con quanto richiesto da alcuni esercenti negli ultimi giorni ovvero la sospensione della zona traffico limitato per agevolare le attività commerciali nella consegna delle merci in un periodo particolarmente delicato. Il braccio di ferro insomma è appena iniziato e toccherà all'amministrazione del mezzabarba tracciare la rotta.